Ciao Laura, ci racconti un po' di te, ti presenti, chi sei, cosa fai nella vita? Allora, sono una neolaureata magistrale in comunicazione e scienze sociali e attualmente sto facendo un Erasmus Friendship in Danimarca con cui voglio cercare di entrare un po' meglio all'interno del mondo della ricerca e il prossimo anno provare un concorso di dottorato in modo da poter rimanere nell'ambito accademico e arrivare a insegnare. Sono una ragazza sarda di 22 anni che vive fuori ormai da 19 anni, sono stata prima a Pisa per l'altriennale e successivamente mi sono spostata via per la magistrale, è un percorso un po' lungo e travagliato, però sto riuscendo da insomma le mie soddisfazioni. Sono una persona abbastanza solare, abbastanza ironica, forse mi mostro anche più ironica di quello che sono, oltre comunque più allegra di quello che sono in realtà, però insomma... Sui social come gestisci la tua comunicazione diciamo? Sui social è stata una cosa nata un po' per caso, una cosa su cui scherzavo e poi sono stata spinta sia dalla mia compagna sia da amicizie a provare a pubblicare dei video e a scrivere dei post per come mi veniva naturale scritta, quindi in generale gestisco in questo momento, sto cercando di creare dei contenuti un po' più organizzati e un po' più pensati, però tendenzialmente provo a raccontare la mia vita aggiungendo quel che riguarda la transizione, cercando di raccontare una vita che è sostanzialmente normale. Transessualità e Sud Italia. Hai detto di essere appunto sarda e quindi ti chiedo, ci racconti un po' di più su questi due mondi che fanno parte della tua vita? Allora, essendo che vivo fuori da quando avevo 19 anni, non ho iniziato invece il mio percorso di transizione più o meno un anno fa, non ho vissuto appieno questo rapporto con il Sud. Quello che posso dire del Sud è che se fossi rimasta nel mio paese ci avrei messo molto più tempo a capire dove volevo andare e che dovevo iniziare questo percorso. Mentre comunque io andando fuori ho avuto modo di avere scambi, aperture, conoscere insomma realtà diverse che in un certo senso mi hanno portato a riflettere. Perché dici che rimanendo al Sud ci avresti messo molto più tempo? Perché la realtà in cui vivo è un pochino più chiusa, un pochino più stretta, meno stimolante e quindi mi avrebbe lasciato ancora magari molto ignorante su alcune cose e mi avrebbe anche impedito di conoscere persone in questo senso stimolanti. Di persone che comunque con cui tramite lo scambio di opinioni, di racconti, di esperienze ho potuto anche formare già un'idea sia di quello che sarebbe stato il percorso sia in generale del mondo LGBTQI. Certo. E quindi del Sud posso dire che quando torno a casa, da quando ho iniziato la transizione comunque avverto un modo di guardarmi molto più morboso, molto più interessato, molto più curioso di questo è quello che è nel nord Italia. D'altro canto sono anche rimasta positivamente colpita dal fatto che tante persone con cui magari non avevo rapporti del mio paese hanno iniziato a dialogare con me in maniera diversa. E come te la spieghi questa cosa? Me la spiego col fatto che prima di iniziare la transizione tendevo a essere molto più chiusa forse, un po' più chiusa di me stessa, un po' meno spontanea, mi vergognavo sostanzialmente di tutto quello che facevo e non riuscivo a spiegarmi perché, però di fatto porta anche ad avere magari meno conoscenze, meno amicizie. Ecco. Chiaro. Tre aspetti che consideri divertenti nella transessualità di cui nessuno parla mai? Allora, ho avuto molta difficoltà a trovare tre aspetti, quindi forse ti racconto tre episodi che è meglio. Quando sono di buon umore è abbastanza divertente osservare cosa succede alle persone mentre ti stanno fissando. Quindi mi è capitato più volte di beccare qualcuno che non so, non c'è un passe, mia signora tempo fa che una certa commerciale è caduta dalle scale mentre mi fissava e per fortuna non si è fatta nulla. Sì, per fortuna non si è fatta nulla però, quindi questo è un aspetto che mi diverte. Poi c'è stato un aspetto legato al covid, all'utilizzo della mascherina che comunque coprendo buona parte del viso certe volte aiuta a passare. Mira quando non devo parlare e a quel punto c'è sempre un momento in cui sentendo la mia voce la gente si, insomma è come se o capisca qualcosa o comunque spongo il teo di dubbi però è abbastanza divertente, cerco di prenderlo in maniera divertente. Il terzo aspetto invece un po' più generale credo, spero che riguardi tutti e che non siano solo mie problemi, sono stati soprattutto all'inizio la scoperta e la scelta dell'abbigliamento, ho sbagliato a comprare una maria di volte taglie, cose che non mi servivano. Andavi un po' a tentativi. Sì esatto, è stata una fase molto rapida di quindicenne che per fortuna è finita presto, in cui pian piano ho iniziato a recuperare il terreno. Questo te lo riguarda decisamente tutti, hai ragione. Bene, meno male. Quindi sì, acquisti sbagliati ecco, a volte con risultati divertenti. Invece parliamo del mondo del lavoro. Quanto conta oggi secondo te l'aspetto estetico e quanto le competenze individuali? So che tu ne hai parlato un po' anche sui tuoi canali, quindi volevamo un po' capire il tuo punto di vista. Allora, il mio punto di vista in generale è che attualmente conti tanto l'aspetto fisico, soprattutto in certi lavori, sia per quanto riguarda l'uomo sia per quanto riguarda la donna. Sono certi lavori a contatto con il pubblico dove viene sempre esplicitamente richiesto negli annunci una bella presenza. Non si capisce bene cosa sia, però porta... Porta, insomma, tempo fa ho trovato un annuncio molto vago su quello che doveva essere imposto come segretaria in un studio giudico, che richiedeva proprio taglie precise, misura dei piedi, altezza, richiedeva proprio delle cose specifiche, mentre non richiedeva particolari competenze di tipo pratico. Ecco, questa è un'estremizzazione, però la tendenza a chiedere l'aspetto fisico c'è in qualsiasi annuncio di lavoro, praticamente, tranne quelli magari che riguardano il lavoro d'ufficio, un po' più nelle retrovie. Però se ci si deve mostrare, se un lavoro a contattuale, il pubblico è una costante. Per la mia esperienza, che non è stata chissà quanto grande, cioè nel senso io ho lavorato quasi un anno togliendo i mesi del lockdown con due visite, è stato un po' strano trovare un lavoro del genere, perché è uno di quei lavori in cui puoi trovare più paure da parte delle famiglie, delle persone. Insomma, sono stata fortunata ad essere assunta in un'azienda che comunque non aveva nessun tipo di pregiudizio e anzi mi ha aiutato a trovare le varie famiglie mettendo un paletto davanti. Io vi dico chi è Laura, che percorso sta facendo prima che le si presenti, così evitate di offendere lei, offendere noi e così via. Ci sono state delle occasioni in cui delle famiglie hanno rifiutato che io andassi, quindi senza neanche vedermi, conoscermi, quindi capito. Come l'hai presa? Insomma, me l'aspettavo perché mi sono scena, mi sono andata ieri, non mi faccio particolari illusioni, però allo stesso tempo un po' mi fa sempre riflettere, mi fa pensare, quindi che dovrò sudare il doppio per riuscire a mantenere il passo. Rimanendo, diciamo, da un certo punto di vista su questo tema, transessualità è mondo esterno, cioè la realtà circostante. Secondo te, per viverla bene, la transessualità, è necessario adattarsi al mondo oppure cercare di cambiarlo in un certo senso? Entrambe le cose, cioè adattarsi alle cose positive del mondo, perché spesso ci si concentra sempre sugli aspetti negativi di un percorso come questo, ma vi sono anche dei lati positivi che possono essere come un miglioramento della propria persona per appunto una maggiore spontaneità, una maggiore spontaneità anche da parte delle altre persone che vedendo magari le persone, diciamo, aperte, che già sanno qualcosa che comunque sono disposte ad ascoltare e a capire il percorso che stai facendo. Allora a quel punto ci si può adattare magari all'avere pazienza rispetto al dover spiegare qualcosa una volta di più, per esempio, o comunque a rispettare i tempi di alcune persone che ci sono magari state vicine tutta la vita in un certo modo e per cui può essere più difficile affrontare l'idea che da quel giorno cambierai il nome, divestirete in un certo modo, insomma, cambia un po' tutto. Quindi secondo me un adattamento in questo senso è necessario. D'altro canto adattamento non vuol dire adeguarsi a qualsiasi tipo di discriminazione di livello mondo. Su questo sono stata ferrea con me stessa, per quanto la cosa mi dia comunque dei problemi io certe volte mi faccio star male, fin dall'inizio della mia transizione ho voluto continuare ad avere la vita che avevo prima. Ma è una vita molto da girova, a me piace stare a casa, ecco, a me va al bar, va in biblioteca, passano insomma le giornate fuori casa e se mi fermo a pensare al giudizio della gente rischio di non uscire più di casa. Quindi comunque hai deciso di non rinunciare a nulla in un certo senso. Esatto, sì, tutto quello che mi era possibile, insomma. Quindi in questo senso per me è un cambiare il mondo circostante perché cerchi di inserire te stessa all'interno di quella che viene considerata normalità e nello stesso tempo però la stai cambiando perché la gente si abitua a te, in qualche modo ti conosce. Ovviamente questa possibilità dipendono da tanti fattori. Ci sono situazioni in cui questo può non essere favorevole, ti può vivere in realtà molto più chiuse di quella che è Pavia o Milano, e quindi avere difficoltà molto maggiori, tutto un po' da contestualizzare. Come affrontare il proprio percorso verso la transessualità? Ti andrebbe di dare un consiglio o più consigli a chi ci ascolta? Sì, allora ogni tanto mi scrivono anche su Instagram, come anche io ho fatto prima di iniziare il percorso, per cercare appunto consigli del genere. Quello che noto molto spesso è la mancanza di pazienza, cioè la voglia di fare tutto e subito, avendo però allo stesso momento una serie di muri, di paletti interiori che vanno a scontrarsi con quello che è un percorso, cioè quando ancora non si è accettata l'idea di essere una persona trans e si vuole comunque portare avanti un percorso, le cose iniziano ad essere secondo me complicate. Quindi ci vuole quello che consiglierei assolutamente un percorso psicoterapeutico con una persona che conosce il tema e che non sia rivolto propriamente a ottenere il documento che poi ti serve per iniziare la terapia. Quindi un percorso semplicemente per mettere prima a posto la propria vita rispetto al percorso che verrà. Quindi questo è un consiglio molto importante. L'altra cosa è di tenersi strette le persone buone perché sono fondamentali per non sentirsi soli, per avere più coraggio e per poter anche uscire insomma, uscire nel senso, stare al mondo con normalità come tutti gli altri. Grazie. Grazie.